La magia che mi porta a fare tutto quello che faccio è indubbiamente la passione, perché se non fossi un'appassionata del mio lavoro e non mi divertissi da morire, non lo farei, non accetterei nulla di quello che mi viene proposto, perché soffrire. E poi questo è il fatto che mi diverto tantissimo, sono felice di potermi esprimere, non in qualsiasi campo, però l'idea di potermi rinnovare passando dalla musica alla conduzione, a chi lo sa, alla scrittura, alla recitazione, insomma, sento di rigenerarmi continuamente e in questo modo non mi annoio mai.